Prima il sole, poi la pioggia non hanno scoraggiato i tanti atleti che si sono presentati al Via dell'edizione 2017 della Coppa Sant'Agata. Qui parliamo di ciclismo e del Quinto Memorial Iannino Mirabella. Il vento e la pioggia non hanno condizionato il grande entusiasmo degli appassionati sportivi e centinaia di atleti si sono presentati al Via della Coppa Sant'Agata. Non poteva mancare anche quest'anno il trofeo ciclistico con il Quinto Memorial Iannino Mirabella, gara organizzata dalla Libertas Ciclisti. È sempre una grande emozione stare qui in onore della nostra patrona. Devo ringraziare il Comune di Catania che ha messo a disposizione una serie di servizi infiniti, dal transennamento alla polizia locale alla protezione civile, è intervenuto e ci ha sostenuto con grande entusiasmo. È diventato l'evento ciclistico a Catania. Ci speravo tanto e questo è accaduto. Cosa vuol dire al ridosso delle feste a Gatine organizzare un evento di questa portata? C'è una macchina organizzativa tra giudici di gara, cronometristi, la sicurezza del percorso che viene curata sin da dieci giorni prima, il Comune è intervenuto anche per quanto riguarda il ripristino dell'asfalto. Quindi voglio dire, è una macchina che è rodata ormai e quindi diciamo che tutti i passaggi li conosciamo bene. La manifestazione ha visto i ciclisti divisi in due batterie sfidare l'asfalto bagnato lungo il percorso che, a causa degli acquazzoni della mattinata, è stato così sensibilmente accorciato per motivi di sicurezza. A vincere di fronte ad una cornice di pubblico degna delle grandi occasioni sono stati Lorenzo Munafo e Gianluca Pullano. Dal ciclismo al nuoto, sembra all'interno del programma della Coppa Sant'Agata 2017. Domenica è stato giorno di gare anche alla piscina comunale di Nesima, dove si è celebrata la tredicesima edizione del trofeo di nuoto, evento organizzato dal presidente dello Sporting Club Catania, Davide Arena. Allora, siamo giunti alla tredicesima edizione e anche dopo tredicesima edizione sono sempre alla pelle d'oca. Io ringrazio il comitato organizzatore delle festività da Gatine nel nome di Francesco Marano e del vicepresidente, anzi il presidente comunale del CONI, provinciale del CONI Enzo Falzone, per avermi dato questa opportunità di avere l'inserimento anche del CONI all'interno delle festività. Oggi è una giornata di festa, ci sono atleti sia di un certo livello agonistico, ma ci sono anche i miei amici diversamente abili, con Salvo Mirabella e Teresa Pironti, che daranno praticamente lustro anche a questa manifestazione. Alla manifestazione, che ha visto una massiccia presenza di pubblico, hanno partecipato attivamente atleti di ogni fascia di età, junior e senior. Significativa la presenza della grande squadra di atleti paralimpici, che nel corso delle tre batterie loro dedicate hanno mostrato la loro forza e allo stesso tempo la loro devozione a Sant'Agata. Ma noi, a parte l'essere catanese e quindi devoti a Sant'Agata, non a caso da anni noi siamo impegnati nel diffondere la cultura di Sant'Agata, non per molti ma per tutti. Non potevamo esimerci dal fatto di partecipare ad un trofeo internazionale come quello del trofeo Sant'Agata, qui alle piscine di Nesima, con il nostro team di atleti paralimpici.